La scrittura dice Io detesto e respingo le vostre feste Il suone delle tue arpi Non posso sentirlo Scorrat come acqua il diritto e la giustizia Qui la scrittura si riferisce alle feste del popolo In onore di Dio Feste, cimpoli, sfilate Tutto è bello Ma ci deve essere un fiume di giustizia che scorre Altrimenti Dio di quelle feste non ha a che farne La sagra scrittura, quindi ci presenza Dio Che è il liberatore degli oppresse I poveri, gli orfini, le vedue, ecc E vuole giustizia e solidarietà Perché la terra ritorna ad essere un paradiso terrestre Chieda ai credenti di non separare la pratica religiosa dall'impegno sociale Quindi sono due elementi che devono essere vissuti insieme Gesù parla dell'amore paterno di Dio Ma propone una giusta e più perfetta Che presuppone un amore per tutti Anche per i nemici Ed è strano Per coloro che vivono magari in altre contesti In altre realtà religiose Gesù dice Anche i nemici bisogna amare e aiutare E nel contempo rispetto amoroso anche per la creazione E per le opere realizzate dall'uomo La Chiesa è mosso unicamente Dalla cura e responsabilità per l'uomo E non da interesse di prestigio o di potere Alla luce di tale principio Interpetra le situazioni storiche Denuncia i mali e le ingiustizie Avanza proposte per stimolare la ricerca e l'azione dei cristiani laici E di tutti gli uomini di buona volontà Mi piace questo pensiero Perché ci fa capire Che se il Papa continuamente Richiama l'attenzione su alcune piaghe della società moderna E la stampa, la televisione Cattolici e non cattolici Riprendono Ma il Papa potrebbe anche smettere di dire sempre queste cose Invece È nel diritto della Chiesa Stigmatizzare le ingiustizie contro gli altri I cristiani arricchiti dalla formazione spirituale e culturale e della preghiera Si devono muovere con uno spirito di servizio per i più umili e bisognosi La loro azione deve aprirci alla speranza Al dialogo, alla collaborazione con tutti gli uomini Non esclusi i lontani e i contrari Il cristiano testimonia la sua fede Impegno ad identificare un ordine sociale della verità Il quadro della situazione attuale Non solo nel nostro paese Ma in tutti i paesi del mondo È di una crisi di legalità diffusa Nella classe dirigente E nei comportamenti dei cittadini I vari scandali economici, politici, morali Che spesso accadono in molte nazioni E che vengono denunciate dai massi media Ne danno una conferma Corruzione amministrativa Efezione fiscale Favoritismo Assenteismo dal lavoro Sono piaghe Che piano piano incidono sul bilancio Della economia di una nazione In un documento educare alla legalità Stimatizza la situazione Ed esorta A rifiutare una serpeggiante convinzione Che la furbizia viene sempre premiata E che il fai da te Contro le regole generali dello Stato Può essere considerato pienamente legittimo E che il possesso di un bene ottenuto Contro la legge È motivo sufficiente per continuare a tenerlo E che è logico e giusto ratificare il fatto compiuto Indipendentemente della sua legale o illegale realizzazione Questo è un abuso È un abuso che grida Vendetta a cuore di Dio E che scaglia sui popoli La povertà e il disordine